Salve a tutti giocatori e benvenuti in un nostro nuovo video Stavolta facciamo il report del metagame OCG un pochino più corposo Perché dall'alto della mia ignoranza Ho fatto la traduzione d'articolo Però almeno capiamo più roba Si, si, è questa cosa così cringe che fa il giro e diventa incredibile Però, oh, almeno possiamo capire, cioè almeno io posso capire meglio Voi siete molto più abili di me Prima di iniziare, come sempre ragazzi, in video scrivete il nostro canale Prima di sempre aggiornati, mi raccomando È importantissimo, grazie mille Dall'altissimo della mia ignoranza Andiamo a vedere il metagame OCG di novembre Questo più le altre liste che andremo a vedere un po' più avanti Allora, Rescues e Fire King fanno il culo a tutti, più o meno Il sunt è questo, con Labriant, Snake Eye, Silent Force, Branded Pure il Salomon Grit che vanno un po' indietro Con Orson Naturia, Magician e Superman King Fanalini di coda e altri Il 23% Allora, i più forti che ho visto, ma anche visto giocare Sono l'SQA, Fire King e Silent Force Fondamentalmente, però anche il resto ovviamente è molto forte Allora, che cosa ci dice? Hanno cambiato un po' le hand trap Perché la maggior parte, come vediamo, dei giocatori Ha eliminato Veler in permanence Perché SQA ha la combinazione con Little Knight Promete a un princess e donatore di fiamme Per girarci intorno Mentre Silent Force c'è a Sauravis, l'Antico Asceso e la Barriera Silent Force che fondamentalmente non fa targettare Quindi, bene Nibiru e il Droll sono più o meno la scelta migliore in questo In questo formato per impedire l'SQA e il Fire King di fare giocate Anche la Ghost Bell è buona Perché comunque va a bloccare Big Welcome, Labyrinth, Saffira Preparazione dei Redi e Nati Reservant Quindi, col fatto che aggiungono una carta all'ammazzo Scimilero, Ghost Bell e Undead Mansion vanno a parare Come sono abile a leggere l'italiano delle volte Mamma mia Comunque, vediamo la lista di Rescue Ace Tra l'altro Snake Eye Populous sarà qualcosa di assurdo Quando arriverà qui abbiamo il 3x di Bonfire Assolutamente necessario Certo che, raga, il 2x del Collead fa tantissima roba Fa veramente tantissima roba Ma Max C, ovviamente In un mazzo che comunque Si può settare tanto Puoi anche andare a perscare di Max C Veramente assurdo E questa è la side con appunto un D-Viro La Ghost Bell E' l'altro Ghost Bell Droll T-T-T-T-T-T-T e vabbè Ciclone e altro Fire King Fire King gioca a Salaman Gate, Regine Phoenix e Zeelantis Per fare un OTK Da una Snake Eye Ash Mentre l'avversario a me non mostro sul terreno Fondamentalmente qui dice Evoca Ash, attiva l'effetto Aggiungi Populus che è quello nuovo Poi evoca drame di evocazione speciale Populus dalla mano, attiva il suo effetto Aggiungi la Sonfue Spoil Evoca l'Incuribu utilizzando Populus Quindi l'effetto di Populus Si va a mettere nella zona Ma c'è troppo la cartomaggia Continua, attivi l'effetto Del Cenere Snake Eye Mandi Populus dal cimitero come costo E evochi il Flamberg dal mazzo Poi utilizzi Il Flamberg L'Incuribu fa il Little Knight Effetto del Drago Evoca specialmente Il Cenere Occhio di Serpente a Populus dal cimitero Fa il Little Knight Il Cenere Occhio di Serpente Per evocare il Principessa Prometeica Cioè la Link 3 nuova Quella a fuoco che è assurda In questi mazzi Attivi l'effetto E che specialmente il Drago Dal cimitero E usi sempre la Princesse E il Populus per evocare la Salamagna Fenice Furiosa Quindi la usi per fare il Drago Poi vabbè fai Zelantis Bandisci tutti E devo chiedere Un'evocazione speciale sul campo Quando più mostri E' un'evocazione speciale Specialmente Abbiamo in campo finale Zelantis La Link 3 fuoco E la Regine Phoenix Che sono un 11.000 totale di attacco Quindi diciamo che il mazzo va a essere abbastanza rotto Perché ecco Questa qui è la Principessa Che dicevamo Che è una carta veramente Molto molto forte Cioè spacchi a entrambi E ti evochi dal cimitero Abbiamo Zelantis La Regine Phoenix Quindi diciamo Il mazzo Tra l'altro Il gioco soltanto Un Sacred King Che ci può stare Perché tanto Basta che te lo mandi Il problema è che Se magari te lo vanno a rimuovere dal cimitero Può essere Un po' delederio Se hai soltanto questa soluzione Però insomma Se è uno dei mazzi più forti Ed è una delle liste più forti Va a giocare anche Tralasciando il Garonix E si va a minare Come se non ci fosse un dopo domani La Print C'è una bella combinazione Perché similmente La tecnologia Vabbè Keldo e Mudora Solo per il Fire King L'effetto rapido Consentiva di essere attiva Di prima della Stand By Per mescolare Ponix E Barong E gli negli effetti Quindi Interessante Infatti eccoli qua 3 Rescue Ace Impulse Fire Attacker Nel side Funziona nel modo simile A Phantasmade Per scavare le Hand Trap Ma la doppia Anche Come di scarto Per Keldo Mudora E ok Transaction Rob E ok 7-1 Questo ha fatto 12-1 E Rescue Ace Dove è Rescue Ace Non lo leggo Non lo leggo Può essere Che me lo so perso Può essere Che me lo so perso Può essere Che me lo so perso Allora Poi abbiamo Snake Eye Populus Prometan Princess Vastor Flame Ha notevolmente Concierto Snake Eye Ok Una singola Ace di Snake Eye Potrebbe trasformarsi Appunto Nella Link 3 Il Jet Synchro Può essere Avvocato Tra una Vedazione Speciale Da Sinful Spoy Snake Eye E funziona Come link Aggiuntivo Dove essere Stato bandito Il Jet Synchro Potrebbe essere Avvocato Specialmente All'effetto Di Snake Eye Ok Consentendo A Jet Synchro Di essere Rutilizzato Ogni turno Ok Perfetto Andiamo a fare Cose Molto brutte Molto Molto brutte Quindi Questo è Uno Snake Eye Puro Che si va A concedere Un Jet Synchro Per fare Roba brutta E tra l'altro Si gioca anche Skill 3 Silent Force Silent Force È in realtà Un mazzo Molto Molto Forte Che Ho Ho giocato Abbastanza Abbastanza E Ovviamente Senza Max C E diciamo Che Novox Ti va a prendere La barriera La barriera Ti va a aggiungere Roba Quindi Ti fa Anche Da Protegere Hai modo di negare Hai modo di proteggerti Le carte Hai modo di evocarti I rituali dal mazzo Insomma Veramente forte Come deck Nato 6 a 1 È un mazzo Veramente Assurdo Più che altro Se Qui costa poco È un mazzo Che Veramente Io consiglierei Tantissimo Non credo che costi poco Secondo me Novox Secret Lo vanno sicuramente Però Se diventa Fattibile Trova poco gioco Già il fatto Magari Che ti vai a buttare In Adir Serpent Per andare a Mandare via roba Dall'Extra Lake Per fare più risorse Il mazzo Diventa interessante Conclusione L'impatto Di Phantom Nightmare È diventato Più evidente Nelle settimane 5 e 6 I primi 5 mazzi Rescue Ace Fire King E Snake Eye Sono stati potenziali Dal Populous Dalla Principessa E la Bestware of Flame La Brint È una carta dappora La Rampel Teofel E Silent Force È un nuovo demo Di Phantom Nightmare In realtà È forte Il mazzo È veramente forte Andiamo a vedere L'ultimo torneo Eccolo qua Allora Sinful Spice Snake Eye Fire King Casalmente Che va a confermare Praticamente Quello che hanno detto Poi c'è il Sinful Spice Snake Eye Fire King Che questo utilizza Invece due Fire King Due Garonyx In modo che Ti fa un po' Da protegger C'è più robina Poi abbiamo 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 Fire King Rescue Ace E Pendulum E Performapalle Scusate Performapalle Era partito col Pendulum Magician Perché Comunque era un po' Develo Performapalle Che A caso A caso Facuito Tavo posto Quindi diciamo Che è un metagame Abbastanza interessante Allora So che Fondamentalmente Magari La traduzione E quello che ho letto Io non era Proprio precisissima Al dettaglio Però secondo me È uscito fuori Un qualcosa Di decente Di decente Cioè Diciamo che Tra questo E io che traduco L'inglese Ma è meglio Meglio questo Raga Mamma mia Sto migliorando Sto cercando Di migliorare Ve lo giuro Però Insomma Secondo me È avvenuto Qualcosa Di discreto Non dico carino Qualcosa di discreto Comunque Detto questo Ragazzi Fatemi sapere voi Cosa da pensare Ovviamente Sto Fire King È un qualcosa Di assurdo No raga Veramente Sto Fire King È qualcosa Di assurdo Ok Rescue Ace Ma il Fire King Sta prendendo A pizze Tutti Quindi è qualcosa Di assurdo Fatemi sapere voi Cosa pensate Ovviamente Noi come sempre Ci vediamo In un prossimo video E un saluto A tutti